Ok, se sei qui vuol dire che sei veramente interessato all'idea di abbattere seriamente questa volta l'imposizione fiscale della tua azienda, l'imposizione fiscale dell'impresa che hai creato con tanta fatica, con tanto tempo, con tanto sudore, che adesso è pronto a fare il passo successivo. Quindi non perdiamo tempo e veniamo subito al dunque. Quello che facciamo noi di Soluzione Z è affiancare la tua strategia di internazionalizzazione commerciale con una intelligente pianificazione fiscale internazionale che ti faccia rispondere a risparmiare immediatamente sulle imposte. Mi spiego meglio, mentre tu ti preoccuperai e ti preoccupi di vendere il tuo prodotto, di esportare il tuo servizio all'estero, aprendo sedi commerciali, ingaggiando altri venditori nel resto del mondo, i rappresentanti commerciali all'estero, appoggiandoti a magazzini piuttosto che effettando uffici di rappresentanza in altri paesi, noi ci occupiamo di farti risparmiare sulle imposte e di capire, spiegandoti perché, quali sono i paesi migliori dove stabilire la tua organizzazione all'estero per ridurre il tuo carico fiscale, ovviamente in concomitanza alla espansione, alla strategia commerciale che hai intenzione di sviluppare. Se affianchi la tua strategia di internazionalizzazione commerciale, infatti, con le nostre strategie di pianificazione fiscale internazionale, puoi arrivare ad avere un risparmio che va dal 20 al 50% sul carico fiscale, se non addirittura di più, ovviamente ogni caso è particolare e va studiato nello specifico, ma queste sono le percentuali di risparmio fiscale base, che sono invece il minimo comune denominatore per tutti i nostri detti. Immagina che cosa significa avere un 20% di denaro in più in tasca grazie al solo risparmio fiscale e questo è il modo nel quale noi intendiamo l'internazionalizzazione, perché non devi solo preoccuparti di guadagnare con il migliore marketing, con i migliori strumenti di comunicazione, con i processi di management e i software logistici più avanzati, ma devi anche preoccuparti allo stesso tempo di non perdere i soldi che con tanta fatica guadagni e che tanto facilmente il fisco vuole portarti via. Infatti come saprai meglio di me se sei un imprenditore, un'impresa si fonda su due colonne portanti. La prima è appunto quella di fare i soldi, perché le aziende nascono a meno che non sono delle hollus con scopo di lucro, la seconda colonna portante è quella di non perdere i soldi accumulati. Ora, per quanto io non metto in dubbio che tu sia bravissimo a guadagnare, perché sei un marketer esperto, perché conosci nel dettaglio il mercato di riferimento del tuo prodotto o del tuo servizio, perché sei un imprenditore da generazione per mille motivi, ho dei dubbi però sulle tue capacità e quelle del tuo commercialista riguardo a non perdere i soldi, soprattutto quando si parla di fisco. Ma questo è esattamente il motivo per cui sei qui, è esattamente il motivo per cui ti sto parlando, perché a questo aspetto ci penso io. Ora tu mi dirai a proposito del tuo commercialista, beh, ma io un commercialista ce l'ho già. Ora, senza aggettare il benché minimo discredito sul tuo commercialista, voglio spiegarti una cosa. Il fatto che tu abbia un commercialista che tenga in ordine i libri contabili e ti dia consigli sulla contabilità della tua azienda, per esempio, non significa che tu abbia però al contempo una strategia di pianificazione fiscale internazionale. La questione è la seguente ed è piuttosto semplice. Se il tuo commercialista è tanto impegnato a tenere in ordine i conti, i libri e la compliance della tua attività, e non solo della tua, perché avrà sicuramente tanti altri clienti, quindi tanti altri imprenditori da seguire allo stesso tempo insieme a te, la mia domanda è dove lo trova il tempo per farsi una cultura nell'ambito del tax planning internazionale. Quindi, come vedi, a ciascuno il suo. Io e il mio team ci occupiamo di tax planning internazionale da anni, siamo specializzati in tax planning internazionale, infatti non siamo qui ad offrirci di sostituirci al tuo commercialista, siamo qui ad offrirti un aiuto ulteriore, aiutiamo le aziende a risparmiare utilizzando una pianificazione fiscale internazionale, una pianificazione fiscale intelligente e legale. La domanda è la seguente, quando hai un problema allo stomaco, cosa fai? Vai dal medico di famiglia o vai dal gastroenterologo? Beh, e allora io ti chiedo, il tuo commercialista lo sa? In quale paese europeo è possibile trovare un'imposizione fiscale più bassa per quanto riguarda il reddito d'impresa? Lo sa? Come fare a vendere in paesi di mercati ricchi, emergenti, senza dover pagare le imposte in quei paesi? O meglio, come fare a vendere in quei paesi evitando una doppia imposizione internazionale? Prova a fare un approfondimento con il tuo commercialista e poi torna da me. Ma allora, che cos'è questo tax planning internazionale e perché è tanto importante? Bene, quando tu internazionalizzi un'impresa, quando tu ti espandi all'estero, quando tu guardi al di là del confine e del mercato italiano, devi prendere in considerazione numerosissimi fattori. Facciamo un esempio concreto, pane al pane. Poniamo che vuoi esportare il tuo prodotto in Francia. Beh, la Francia ha un mercato in termini di milioni di persone con una elevata redditività piuttosto importante, ma allo stesso tempo però ha un'imposizione fiscale che è addirittura peggiore di quello italiano. Quindi la domanda è come fai per ridurre al minimo l'imposizione fiscale muovendoti all'interno della legalità? Ecco che interviene l'esperto di tax planning internazionale e che ti trova la soluzione o le soluzioni che vanno verso il risparmio fiscale. O ancora, se devi esportare il tuo prodotto negli Stati Uniti, noi analizziamo la condizione nella quale ti trovi in Italia e valutiamo dove è meglio che incorpori la tua filiale, perché negli Stati Uniti ci sono ben 50 stati. Tu lo sai qual è il migliore all'interno del quale insediare il tuo avamposto per poi espanderti sull'intero mercato statunitense? Beh, lo stesso vale con riferimento alla Cina piuttosto che hai con riferimento agli altri paesi asiatici emergenti. Dunque, in pratica, e questo ovviamente è il nostro consiglio, la nostra visione, ogni passo che fai da un punto di vista di strategia commerciale dovrebbe essere sempre affiancato da una strategia di tax planning. Perché? Perché questo ti porta un duplice risparmio in termini di migliore soluzione dal punto di vista fiscale e in termini di gestione del rischio fiscale, perché muoversi in concomitanza con le leggi nazionali ed internazionali significa sia risparmiare da un lato, sia prevenire dall'altro lato le azioni di contrasto del fisco e quindi risparmiare su sanzioni, interessi e quant'altro. C'è ancora una domanda alla quale devo e voglio rispondere. La domanda è si tratta di roba illegale? Perché probabilmente se sei un imprenditore che tiene alla sicurezza della propria azienda e del proprio futuro, questa è una domanda del tutto legittima da porsi. Bene, quello che voglio dirti è che a differenza delle pratiche illusive che tantissime piccole e piccolissime aziendine di furbetti mette in atto in Italia tutti i giorni, il tax planning internazionale è una pratica riconosciuta e protetta a livello internazionale, prima dalle convenzioni sulla doppia imposizione e poi dal diritto tributario internazionale. Ti faccio un esempio, in tutto il mondo ci sono corsi e master di laurea, tra l'altro piuttosto importanti, dedicati e piuttosto cari, dedicati al tax planning internazionale, quindi che cosa vuol dire? Che è una materia del tutto legittima, del tutto lecita che si studia, che viene studiata ogni anno in tutto il mondo. Io ho seguito tanti di questi corsi e tanti di questi studi, ho affinato lo studio anche con l'esperienza che è quello che poi contraddistingue me come professionista e tutto il mio team di professionisti in tutto il mondo. Dunque, si tratta, per risponderti precisamente, di un'attività legale al 100%, non credere alla demonizzazione dei media che ce l'hanno con le grosse multinazionali e che gridano all'evasione fiscale appena possono puntare il dito contro qualcuno, perché loro stanno semplicemente cercando di creare delle storie da vendere. Quindi, col tax planning internazionale, non solo resteresti al 100% nella legalità, dormendo la notte come un bambino e senza la paura di trovarti da un giorno all'altro il fisco in casa che ti contesta quello piuttosto che quell'altro che hai fatto bene, piuttosto che hai fatto male, mi devi dare le sanzioni e mi devi dare gli interessi. Ma soprattutto allo stesso tempo risparmieresti molto di più rispetto alle attuali pratiche elusive o ai suggerimenti dei cosiddetti consulenti che si trovano là fuori, in particolar modo sul web, e che vengono praticate dalle aziende italiane praticamente tutti i giorni. Per concludere, il punto è questo. Là fuori è pieno zeppo di stati che fanno a gara per rendere la vita agli imprenditori migliori e più facili. Perché? Perché hanno bisogno di crescere, perché hanno bisogno delle tue risorse economiche, hanno bisogno delle nostre risorse economiche e per crescere hanno capito da stati intelligenti che devono applicare un regime fiscale che evidentemente è quanto meno inferiore a quello italiano e non ci vuole molto. Quello che facciamo noi di Soluzione Z è semplicemente conoscere queste politiche fiscali di questi paesi di tutto il mondo e applicare queste normative alla strategia commerciale della tua azienda, ottenendole chiaramente un importantissimo sollevo fiscale. Tutto questo, ti ripeto, viene fatto nella piena, totale legalità, nel rispetto della legge e nel rispetto della tua professionalità.